All'esperienza, dal mio punto di vista, non è nient'altro che tutte le puttanate che si fanno nella vita che poi si capiscono e poi si migliora e non si fanno più. Si parte! Via! Direzione aeroporto. Aeroporto di Hanoi. Ci vediamo tra 24 ore. E anche biglietti. Ce li abbiamo. Che figata questi aeri cinesi. 3 ore e mezza per Shanghai. Benvenuti all'aeroporto di Shanghai. Visto così potrebbe benissimo essere un aeroporto in qualsiasi altra parte del mondo. Ma tanto a noi poco ci importa. Perché tanto, spoiler, in Cina non ci vado per il momento. Allora, in tutto questo progetto c'è stato un format a cui tengo tantissimo. Nonostante non sia un format dinamico, nonostante non sia un format di intrattenimento di massa, che può attrarre in generale grandi numeri. E non è nemmeno un format che magari a vederlo da fuori ti verrebbe da cliccare sulla copertina. Però allo stesso tempo probabilmente è il format che mi ha permesso di realizzare i video più importanti di tutto il progetto Snake. Sto parlando del format del mio diario. Che per chi non lo sapesse è quel format dove in maniera spontanea, senza sapere dove sto andando, proprio come un diario, comincio a parlare, dire e fare per poi arrivare a delle conclusioni. E la trovo sicuramente una cosa molto personale, però allo stesso tempo è una cosa che mi va di condividere. Perché è quel tassellino in più che può permettere a chiunque guardi video di interiorizzare il più possibile quello che è stato il viaggio. Non solo come, appunto, cose viste, ma anche che cosa può voler dire da un punto di vista personale. Vabbè, ho fatto tutta questa premessa enorme per dire semplicemente che vorrei concludere tutto questo viaggio prima del video riassunto globale con un video del diario. Cominciamo. Anche perché credo che sarà molto importante per me riguardare questo video in futuro. È un'importante testimonianza pre-pre-pre-ritorno, cioè tra meno di 14 ore dovrei essere in Italia. La questione è che ho visitato 5 paesi, sono stato fuori casa 4 mesi, ho realizzato tutti i video che avete visto fino adesso e di conseguenza ho fatto anche tutte le esperienze che avete visto, più tutta una serie di esperienze che non ho raccontato anche perché se mi fossi messo a raccontare tutto, 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 c'era veramente da uscire scemi. E la questione è che ora, dopo tutto il tempo trascorso e dopo tutto quello che ho fatto, sinceramente in questo momento io non sto capendo un cazzo. Nel senso che lì lì sembrava come se il tempo non trascorresse mai, come se fare sempre cose mi dava la sensazione di avere tempo infinito. E adesso invece, che è tutto finito, mi sembra tutto un sogno, tutto un qualcosa di sfumato. E probabilmente è giusto che sia così, che per trarre veramente le conclusioni probabilmente devo tornare a casa, riappropriarmi dei miei spazi e riguardare tutti i video che ho fatto e cominciare a scrivere, a capire, a rielaborare. Potrebbe essere paradossalmente uno dei momenti più belli di tutta questa vicenda. Perché veramente ho la sensazione di avere l'opportunità di aver costruito una base enorme di errori su cui lavorare per i progetti futuri. E questa cosa è bellissima e mi fa pensare al fatto che veramente noi aspettiamo sempre il momento giusto, l'opportunità giusta. Cerchiamo di far sì che sia sempre tutto perfetto. Faccio una premessa, sono esagerato, ok? Cioè, nel senso, personalmente vado in maniera un po' troppo diretta. Però, di base, non ci sarà mai il tempo giusto. Quindi, prima cominciamo a fare le cose, meglio è. Anche perché, se poi ci pensate, che cos'è l'esperienza alla fine? All'esperienza, dal mio punto di vista, non è nient'altro che tutte le puttanate che si fanno nella vita, che poi si capiscono e poi si migliora e non si fanno più. E proprio per quello che ho detto fino adesso, mi fa un sacco pensare tutti quei momenti di sconforto, tutti quei momenti di angoscia, tutti quei momenti di ansia, di paura, di preoccupazioni, no? Ho condiviso con voi, ho condiviso anche momenti bellissimi, però c'è anche quel lato lì. Certo, devi superarlo, però poi quando lo vedi a posteriori e lo pensi a posteriori, dici, wow, che figata, ho vissuto quella cosa, l'ho superata e adesso in più non è che mi è bastato superarla, ma ho l'opportunità di poterci lavorare sopra, in maniera concreta, di osservarla proprio in maniera concreta, cioè osservarla attraverso tutto il materiale video. E non lo so, questa cosa mi esalta, cioè mi esalta mille, cioè mi esalta il fatto di aver fatto mille errori diversi e quindi di conseguenza probabilmente ancora non mi sono reso conto di quanto sia stato fondamentale fare questo percorso. Quando sono partito l'avevo inteso come il progetto definitivo per esplodere su YouTube, però in realtà nel tramite mi sono reso conto che no, era semplicemente il progetto di cui avevo bisogno per crescere prima personalmente, per poi arrivare a molto di più. Vi faccio un esempio un po' più concreto, quando ho fatto il mio primo viaggio, tre giornate, un po' pazzarello, zaino in spalla, autostop in Irlanda, eccetera, quello veramente è stato un viaggio assurdo. Partito per disperazione e vissuto delle esperienze pazzesche, per chi se lo fosse perso è il primissimo video del canale, lo trovate qui. Come mai ho fatto questa premessa? Ho fatto questa premessa perché quel viaggio lì, nonostante da un punto di vista concreto non mi avesse portato da nessuna parte, in realtà aveva fatto molto di più, ovvero mi aveva dato delle rivelazioni, cioè delle prese di coscienza e le varie situazioni vissute mi avevano cominciato a fare delle domande che può sembrare un paradosso, no? Perché uno parte per un viaggio per, tra virgolette, trovare una rivelazione e invece torna con più domande di prima. Però quelle erano state le domande giuste che poi mi hanno portato a fare delle cose pazzesche, lavorative, che in realtà non ho ancora raccontato perché non è il momento, però poi arriverà anche quel momento. E fatto sta che questo viaggio qui, a distanza di 7-8 anni, mi dà la stessa sensazione, è come se fosse la versione 2.0 del viaggio in Irlanda. Solo che quando sono partito per Irlanda, veramente alla base non c'era niente. Invece quando sono partito per questo viaggio, alla base c'era tantissimo rispetto all'epoca, anche in base a tutte le esperienze lavorative che poi ho fatto successivamente. E quindi la cosa che mi viene da pensare è, ok, YouTube non è esploso, però non c'era motivo per far sì che lo facesse. Perché semplicemente questo qui non era un vero progetto studiato nei minimi dettagli di marketing per arrivare a più persone possibili. Ma è stato il mio viaggio personale, è stato il mio viaggio di ricerca, il mio viaggio di scoperta, il mio viaggio di tutto. E probabilmente, a differenza del viaggio in Irlanda, adesso non torno con più domande rispetto a quelle con cui sono partito. Ma torno con più consapevolezze, torno con più focus, torno con più voglia di non di viaggiare, ma di stare seduto su una sedia, su una scrivania, e lavorare e scrivere, scrivere, lavorare, scrivere e cominciare a prendere tutte le linee guida che mi sono costruito per poi farle coincidere in un unico filo. Che non è più un filo, perché tutte quelle linee messe insieme hanno creato una cima. E se ci pensate, è pazzesca questa cosa. Perché prendi tutto quello che è, tutti i fili guida che ti sei creato, li metti insieme per poi focalizzarti solo su una cosa e l'intreccio di tutti questi fili crea qualcosa di, tra virgolette, indistruttibile. Cioè qualcosa di resistente, di consapevole. E non più qualcosa, tra virgolette, userò un termine molto tecnico, ovvero a cazzo di cane. Ma focus, inquadramento, precisione, che figata, bellissimo. A conclusione di questo video, ci tengo sempre a sottolineare che tutto quello che dico da adesso in poi non è un insegnamento per nessuno. Cioè prendete quello che volete da questi video. Cioè quello che rivolgo a voi in realtà lo rivolgo a me stesso. Ed è sbagliamo, 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 che non vuol dire nient'altro che fare esperienza. Per poi tracciare questi fili che solo alla fine poi potranno avere un senso. Solo che per sbagliare, la cosa di cui mi sto rendendo conto che ci vuole è sicuramente una grande soglia di incoscienza, cioè nel senso per metterti in una situazione dove dici voglio sbagliare, e poi un pizzichino di coraggio. Cioè che è il contrario. Molta gente pensa che per fare delle cose devi avere tanto coraggio. In realtà è solo incoscienza, il coraggio è una piccolissima parte. Almeno per me. Detto ciò, il coraggio di sbagliare probabilmente è una delle chiavi per progredire in qualsiasi cosa uno voglia fare. Dall'aeroporto di Shanghai è tutto. Vi aspetto al prossimo video. Grande riassunto di questi ultimi quattro mesi. E grazie infinite per aver visto questo e gli altri video del progetto. Vi mando un besito da Shanghai. Grazie a tutti.